Ogni notte d'estate nel fine settimana il caos, schiamazzi, risse tra ragazzini, bottiglie ed escrementi di ogni tipo a terra, scene da far west fuori dalle discoteche sul lungomare di Focette che si ripetono da anni e anche nell'ultimo weekend. Balneari albergatori dicono basta, al bagno novantesimo minuto, vittima sabato notte di vandalismi, chiedono che il nuovo sindaco di Pietrasanta ripristine la chiusura dei passi a mare di notte per tutelare le strutture dei bagni, come sempre avvenuto negli anni passati. Il problema principale è che la sera c'è tutti i bivacchi sulla spiaggia, purtroppo da quando non c'è stato riautorizzato di mettere il cancello sui passi a mare puntualmente si verificano specialmente il sabato e la domenica questi episodi, tipo quello di sabato sera, nel quale quando sono arrivato ho trovato il bagno proprio a suo quadro. Quello che chiedo è appunto di venire qui e poter lavorare tranquillamente, perché qui noi investiamo diversi soldi sulle strutture, sui tende. Infuriati anche gli albergatori dell'hotel Oceano. Sabato notte si sono verificate 4 o 5 risse di fronte al giardinetto dell'hotel Oceano e della banca toscana, che chiaramente hanno svegliato tutti i clienti dell'oceano e che si sono affacciati sui balconi infastiditi da tale situazione. Sono più di dieci anni che chiediamo un tavolo, un incontro con i rappresentanti comunali, con i rappresentanti delle forze dell'ordine per porre fine a una situazione che ci sta comportando diversi problemi economici. Sotto accusa non tutte le discoteche, ma solo quelle dove il controllo fuori e dentro il locale risulta inadeguato o inesistente. Chiaramente noi non chiediamo la chiusura dei locali, ma chiediamo che vengano rispettate le regole per tutti. Una situazione che dovrà essere affrontata di petto dalla nuova amministrazione, che si inserirà da lunedì prossimo dopo il ballottaggio.